Sono 100.000 le dosi disponibili in Abruzzo del vaccino contro il Covid aggiornato alle varianti Omicron. Da oggi nei centri vaccinali di Chieti, L'Aquila e Teramo, via le somministrazioni di entrambe delle tipologie, sia quella vecchia, tra virgolette, che quella nuova, sempre qui, tra tante virgolette. Ci spiega perché questo in collegamento proprio dal Lab di Teramo, la nostra Marina Moretti, per verificare come sta andando questo primo giorno. A te Marina. Sì, Carmine, buongiorno. Buongiorno ai nostri telespettatori, grazie per la linea. Siamo a Teramo, davanti al Palazzo della Asla, perché parliamo di campagna vaccinale, ma parliamo di campagna vaccinale regionale. Lo facciamo con il referente, il dottor Maurizio Brucchi, che non è corretto dire torna ad occuparsene, perché poi di fatto il vaccino, non abbiamo mai smesso di pensare al vaccino, la campagna vaccinale è andata avanti. La novità è che è arrivato il nuovo vaccino, quello cosiddetto aggiornato, adeguato alle varianti Omicron. E quindi da oggi si può scegliere se fare il vecchio o il nuovo. Sono quasi tutte operative le sedi ASL, l'Aquila, Teramo e Chieti. Pescara partirà domani, le sedi dove appunto fare il vaccino vecchio o nuovo che sia. Intanto sono più di 900.000 gli abruzzesi che potranno vaccinarsi, o se vorranno, ma secondo me sceglieranno più il vecchio e il nuovo. Ma è chiaro che sul nuovo vaccino, diciamo, se ne è parlato molto, ma anche, diciamo, basato sul fatto che questo vaccino copre anche le varianti Omicron, anche se anche il precedente vaccino ha dato ottimi risultati, se pensiamo che anche nella, diciamo, nella primavera, seppure ci sono stati molti casi di positivi, devo dire che non abbiamo avuto impatto sulle reanimazioni e l'impatto sui posti letto Covid erano dati soltanto da patologie delle viere superiori, poche, polmoniti. Quindi questo vuol dire che comunque la vaccinazione, diciamo, quella fatta fino ad oggi, è una vaccinazione che ha dato i suoi risultati. È chiaro che questo è un vaccino che contiene, diciamo, migliorato e che può essere utilizzato per le dosi booster, quindi sia per chi ha fatto prima e seconda dose e deve fare la terza dose, e sia per chi ha fatto prima, seconda e terza dose e deve fare la quarta dose. L'importante è che siano trascosti 120 giorni. Quindi è chiaro che, insomma, adesso credo che ci sarà un po' una richiesta del nuovo vaccino. Però, insomma, il vaccino fino ad oggi utilizzato resta comunque un valido vaccino. Perfetto, allora, grazie al dottor Brucchi che deve scappare ai suoi impegni, quindi non lo trattengo oltre per altre domande. La linea torna a te, Carmine.